14 di marzo 2018 saluri bene bene usa noasa in curso inghizzato su un sagronaca carbonia un uvicciocco derintanoso non si frimava assalti dessa polizia a pustisi sagendisi diranti sorigao frimau e tramudava sugo missariao su vatesta contestio aiseo ameriva 65 in via dal marzo e non si comprenditi isa resognisi o su vato denosessi primau di fattisi su giovano mo' arrischiera una filera de denuncia sa e de contestazioni carbonia su uomuno ridecidu de revocasa convenzioni che premitira simpreude su mattesi segretari comunali in paia su comuno de gonesa di fattisi su funzionaria varraiera in su comuno de carbonia dottu sagira vorasa de una d iandara a gonesa sa convenzioni vi rastetti avrimara proso de un anuvairi de samatese giunta massita il chimo ari mudau birei contraria sa esopposizionisi cusa dell'istata civica se de su centro manca che bruschettotupu edanta de una spesa a rummanna. Narcao accordio intra su comuno e su tribunale de castedo posse impreude ispresoneresi che punta a caben di savena voise attivitarisi socialisi comente limpiai molisi o sa cura de su birdi pubblico su consiglio comunale e rapprovava su unanimitaris a proposta presentara del suo sindico Danilo Serra. S'accordio biris inserimento de sagenti segnalara del suo tribunale in cantierisi comunalisi in servizio su vostra manutenzione del suo birdi pubblico ed esa struttura sa comunalisi e finza sa in attivitarisi de protezioni civili. Masa inasa torra raberano e torra sa vesta de isinesto su festa volarrai a shirai sa memoria collettiva sa vesta de nissavuna de ghidais partecipantesi a pizzo su de surgenza de la raia inghizaia sprazzinai su territorio intrasabratica de isinesto su isantigasa variedaresi a rischio de estinzioni. Gustavuna c'erese vincese su de base de isinesto su programma biris inghizu savoru 17 de marzo in su centro de regazioni sociali esquattro conferenze a un salurus e a cattu de varti de Teresa Virasa, presidentessa Centro Sperimentazione e Autosviluppo e del suo sindico de Masainasa, Ivo Melis, a pustisi ante intervenis espertos uglianta fuedai de solo de istrinco de sa vigomorisca e de sa valoramento de isprodusiduras biodiversas a vostro sviluppo locale. Domingo 18 de marzo in su centro de regazioni sociali es un emeso curso de inestude matasa a sa un emeso su rango vegetariano in sagriturismo sa reina. Deremonaiche in antesi cenavara 6 de marzo e 10 mezzo de ammenjano in su centro de regazioni sociali presentazioni ai babbus e mammas e sa comunitari locali de iscompitos de ispipiuso a pizzo su de istematicas ad educazioni ambientali e de straballosuvatos in mesi de viaggio e de marzo de sa scuola primaria de Masainasa. Carbonia su comuno ha rinomenao su referenti del suo centro Eurodesk locali, che ha ratenni una formazione intra sa partecipazione ai seminarius e atrus attobiuso. Sa amministrazioni comunali ha rapone a disposizione uno spazio a cui c'entessi isarchivius o cartaceus e informaticus de Eurodesk possa consultazioni a indono dei partiti dei giovani su uno servizio di importo, pocanto per toccare la sa cultura di su vattori che ha essi primi in suo programma Erasmus. dunque sa po favoressi si istruzioni, sa formazioni, sa gioventuri e su sport. Carbonia lunisi 22 su de genarjo passa avunti da raza inghizzai isattivitarisi dei su Iaio su vigilisi a Sintrara e a Sessila della scuola primaria de Sarruga, Lombardia. Appustisi dei due mesi su bilancio esti positivo e pocusto che il suo comuno de Carbonia si assozi un terza età della Sarruga, Lazio, antidecidio di aumentare il suo servizio fincese ai su scuola di Sarruga, San Roma e Mazzini. Demoinantisi, i suviagli su vigilisi, anta fai isattivitarisi con forma al suo calendario del suo decenoia 24 di marzo 2018 in Sarruga, Roma, del suo segia 21 di Arbili 2018 in Sarruga, di Sarruga, Mazzini. Su servizio in sa scuola primaria Ciusa di Arruga, Lombardia, aressi invece si attivu donia di forasa dei datasi a cui i sui Iaio su vigilisi, antessi, presentisi in Sarruga, San Roma e Mazzini. E questa vi era l'ultima nuova, grazie a tutti su dessesi che io non ho in curso, i suoi precessi intendere su in esedizione si benedora. Adios! Sarruga, San Roma e Mazzini.